Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà Eccoci nello spazio dedicato ai vocalizzi, oggi siamo qui con Daniele Ciao a tutti Daniele Nuzzi by Celentano Grazie A Daniele piace cantare Celentano, lo imita se volete seguitelo anche sui social E quindi oggi vi faremo vedere il riscaldamento vocale utilizzando il famoso kazoo Ok? Quindi vi facciamo sentire un vocalizzo semplice Per le donne così Mentre per gli uomini Vai Daniele Ok Se per caso non possedete già il kazoo vi lascio un link in descrizione su dove potete acquistarlo Va bene? Allora, per suonare questo strumento se non avete visto già la puntata dedicata al kazoo E vi lascio il link qui sopra in descrizione Bisogna soffiare dentro utilizzando la nostra voce Quindi Non solo Perché se soffiamo soltanto non si sente niente Ma dobbiamo parlare all'interno del kazoo Parliamo all'interno E esce il suono In questo modo possiamo riscaldare la voce Quindi procediamo con il vocalizzo Partiamo dalle note più basse fino a un certo punto e poi torniamo indietro Ovviamente quando sentite di farcela Venite e vi accompagniamo, venite insieme a noi Quando sentite che è un po' troppo alto il suono o troppo basso Fermatevi Ognuno si regola in base alla propria vocalità Va bene? Tutto questo dopo la sigla Bene, da questo momento partiamo E' un po' troppo alto il suono E' un po' troppo alto il suono E' un po' troppo alto il suono Ottimo 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 No. No. asciò Andiamo. Ultimo. Bravo Daniele. Grazie. Allora, avrete notato che Daniele aveva un dito avanti al buco qui del casù. Perché? Perché poi lo vedrete anche se guardate la puntata. Comunque, per fare il passaggio nella voce di testa, se noi soffiamo nel casù senza girare la voce, senza essere leggeri, il suono non esce. Ma se noi usiamo una voce di testa, il suono magicamente ritorna a uscire. Quindi quando si vuole essere certi di usare la voce di testa, mentre se usiamo la voce di petto, non esce niente. Bene, spero che questo vocalizzo vi sia stato utile. Vi ringrazio Daniele. Grazie a te. Per averci aiutato. E come sempre, seguiteci e iscrivetevi al canale. E mettete mi piace. Esatto. E vi diamo appuntamento. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.